La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah è la chiave del paradiso Ma questa chiave non apre se non avendo delle punte I denti di questa chiave che permettono di aprire sono delle condizioni che i sapienti hanno esposto se ci sono queste condizioni la chiave apre altrimenti la chiamano in sé La prima condizione è la sapienza nel significato di ilaha illallah Se una persona la dice e non ne sa il significato non gli servono La seconda è la certezza che non gli venga dubbio alcuno che 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 Muglisati con l'abbe. Come il bianco, non ha di l'A'ILAHE DELLA, non ha di l'A'ILAHE DELLA. E se voler il bianco, non ha di farlo. D'accordo con l'A'ILAHE DELLA, non ha di farlo. La sincerità. La sincerità. In cui riguarda l'A'ILAHE DELLA. Noi. E il bianco, come il bianco, anche il bianco, il bianco, il bianco, che è iniziato a fare l'A'ILAHE DELLA. Nessun sott. la veridicità e dire ciò credendo ciò che dice perché ad esempio gli ipocriti lo dicono mentendo e l'accettazione di tutto ciò che porta l'aida e l'Allah se rifiuta qualcosa di ciò con cui è giunta l'aida e l'Allah non li sente ed è indispensabile la sottomissione e abbiamo detto che è indispensabile il rilevo dei preparatori e la conferma della sparta è indispensabile realizzare queste condizioni vediamo la descrizione della preghiera del profeta grazie 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 grazie